buongiorno a tutti benvenuti in questa speciale champions league anteprima ho voluto fare questo video perché magari se avete degli amici che tifano milan che tifano inter che tifano bologna che tifano atalanta e ovviamente che tifano juve magari li avvertite che a partire dalla prima giornata della nuova champions league quindi giovedì 16 perché la giornata prima giornata si svilupperà in tre giorni 14 15 16 tra l'altro la juventus farà la prima partita dell'italiana sarà la prima a scendere in campo martedì appunto 17 alle 18 45 un buon orario tra l'altro così avremo modo anche magari di fare con calma analisi e pagelle allora ci sarà ovviamente l'anteprima champions league come faccio per partita come faccio già appunto per il campionato perché voglio dire attendevo con ansia che la juventus tornasse in champions league per poter farlo anche questo questo formato identico solo che si parlerà di coppa europea e non di coppetta non di coppetta italiana di banali come dice il buon che siamo a letto bene in questo in questo format analizzerò le partite della juve dell'atlanta del milan del bologna dell'inter commenti se ci saranno casi clamorosi di moviola analizzerò anche con i frame delle immagini appunto se ci sono cose eclatanti che in qualche maniera hanno fatto una ruberia o un vantaggio a qualcuno la classifica che ovviamente non essendo più una champions league a gironi ci sarà un unico tabellone un'unica classifica dove ci saranno squadre a tre punti squadre a un punto squadre a zero punti e ovviamente di volta in volta seconda terza quarta quinta fino all'ottava giornata ci sarà sempre lo speciale champions league al termine dell'ultima partita delle italiane o meglio al termine delle ultime partite disputate perché chiaramente la classifica dovrà essere aggiornata non ci dovranno non ci dovranno essere partite sospese come si suol dire insomma è un format che attendevo da tanto tempo se non fosse stata squalificata la juventus l'anno scorso magari l'avrei fatto ma in maniera diverso sarebbe stato un classico speciale champions league ma questa nuova formula si presta a tante cose interessanti ovviamente daremo uno sguardo alla fine della prima giornata alle partite che ci saranno per le italiane nella seconda giornata se ci sarà una partita eclatante tra squadre non italiane ovviamente sarà mia cura rendervene ai dotti e parlarne perché chiaramente cercherò di vederne più possibile perché a differenza di molti che tutto ciò che è nuovo non mamano storcono il naso a me le novità piacciono nella vita piacciono sempre perché bisogna guardare avanti nella vita non bisogna rimanere stagnanti sulle proprie posizioni chi non ha voglia di cambiare cambiare chi non ha voglia di crescere secondo me ha una vita brutta meschina triste io amo i cambiamenti ho fatto tante cose nella vita adesso faccio lo youtuber magari fra un anno non lo faccio più mi metto a fare qualcos'altro non lo so o magari mi vado in pensione visto che sto maturando anche la pensione non lo comunque al di là di questa battuta così anche un po' così sarcastica sono molto contento di poter parlare di champions league di una champions league che di fatto che di fatto lo diciamo in maniera molto chiara è una superlega camuffata quindi ci saranno agnelli da porta e peres che si staranno contorcendo le budella perché se avessero avuto pazienza probabilmente avrebbero visto che c'era in progetto qualcosa poi tra l'altro se quest'anno si accorgeranno che c'è qualcosa che non funziona credo che con tutti i difetti che ha ceferi e ne ha tanti però una cosa gliela dobbiamo riconoscere cioè non ha paura di innovare i cinque cambi gli ha introdotti la uefa e poi sono stati applicati anche in italia il gol che non vale più doppio in trasferta l'ha introdotto ceferi ed è una cosa che io desideravo da vent'anni diciamo che ceferi se non avesse fatto la guerra alla juventus non avesse fatto la guerra a dannelli e non ci avesse squalificato tutto sommato così brutto come appare non è però purtroppo ci ha fatto dei danni quindi diciamo non è che mi sia tanto simpatico ma io sono capace di dimenticare io non porto rancore non odio nessuno io guardo sempre avanti e ceferi ci ha cucinato una visto che va di moda adesso usare il termine cucinare lo usano per gentoli ci ha cucinato una champions league che a me ovviamente attira molto perché intanto giochiamo con otto squadre diverse e già questo vuoi provate a immaginare che nel girone forse come l'anno scorso due anni fa capitava il maccabee lo sturmgratz il victoria pilzen diciamoci le cose come stanno io conosco i juventini che quando c'era juventus maccabee andate e ritorno o vittoria pilzen milan andate ritorno andavano a mangiare la pizza uscivano con gli amici se ne sbattevano le balle andavano a casa cosa ha fatto la juve cosa ha fatto il milano poi guardavano sul telefonino io credo che juventus psv endoven juventus manchester juventus ellipsia juventus vinfica vanno tutti a vederle o allo stadio se possono in caso in trasferta chi può viaggiare e chi davanti alla televisione io credo che sia una champions league moderna per tempi moderni il vecchiume lo lasciamo ci sono stati questo è il terzo format che appunto viene creato come champions league il primo che c'era tanti anni fa molti lo rimpiangevano quando arrivata la nuova champions league poi si sono dimenticati che c'era il primo no 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 è più bella la nuova champions league adesso che c'è questa super champions league chiamiamola così per capirci molti dicono no 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 era più bella la champions league cosa scommettiamo che fra un paio d'anni tutti diranno che questa champions league è nettamente più bella dell'altra bisogna bisogna avere lungimiranza bisogna saper vedere lontano io sono convinto che la lotta per la classifica potrà mettere in difficoltà squadre forti che magari sono tra l'ottavo il nono posto per non andare nei play off e magari ci troverei contro una squadra magari considerata materasso come la zona d'esba oppure che ne so magari squadre inferiori che giocano in champions league che magari devono fare un punto per arrivare nel play off e salvarsi per poterli poi andare a fare e magari porteranno via un punto o addirittura tre a una squadra che calificandosi otto era direttamente al turno successivo quindi secondo me ci sarà da divertirsi non si faranno più i calcoli anche perché non so se lo sapete ve lo dico approfitto di questo video per dirvelo l'ultima giornata che è pazzesco se ci pensate tutte le partite saranno giocate in contemporanea una roba mai vista una roba mai vista quindi pensate voi pensate voi ci sono 36 squadre ci saranno 18 partite tutte lo stesso giorno tutte la stessa ora diciamo che televisivamente parlando sarà una specie di orgia perché chi non chi non ha squadre immagina un tifoso della roma un tifoso della lazio un tifoso della fiorentina no in italia o del celsi o di altre squadre in inghilterra che non hanno la squadra in champions faranno diretta gol se esiste nel loro paese da noi esiste per vedere le azioni salienti di tutte le partite chi ovviamente tifa juve inter milan atalanta bologna e ovviamente guarderà atalanta guarderà la propria squadra immagino no immagino anche perché ci sarà il pathos per vedere quale sarà la classifica finale e sì perché prima dei playoff e prima degli ottavi ci sarà una classifica finale che sancirà le prime otto qualificate al turno direttamente successivo ovvero agli ottavi dal nono al ventiquattresimo posto faranno i playoff per raggiungersi oltre otto squadre appunto per andare agli ottavi e dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto saranno automaticamente eliminate da qualsiasi tipo di competizione europea non cadranno né in europa league né in conference league a casa e se riparlerà se saranno qualificate l'anno prossimo fatemi sapere se questo format potrà essere di vostro gradimento è ovvio che adesso è parlato e raccontato non è vissuto perché non ci sono partite di cui parlare possiamo soltanto dire che la prima partita della juventus è in casa cosa molto positiva perché la juventus partiva sempre in trasferta e e onestamente il psv endove con tutto rispetto ci mancherebbe altro è battibile a casa nostra se tiago motta mette in campo la migliore formazione e non si inventa qualcosa di strambo perché tiago motta alla mia stima alla mia fiducia il mio supporto però mi fa un po paura quando si inventa perché è un conto e farlo contro il como un conto farlo contro il verona e come abbiamo visto l'altra sera un conto e farlo con la roma rischi poi di buttare via un tempo e quando poi metti in campo quelli giusti rischi che non riescano come successo a mettere la partita dalla tua parte ma comunque anche lui deve imparare anche lui deve farsi le ossa non allena più lo spezia non allena più il bologna allena la juventus e con tutto rispetto per la spezia e per il bologna la juventus è tutta un'altra cosa io vi auguro una buona giornata e come sempre se vi va ci vediamo sul canale ciao e forza juve grazie